Ciao a tutti sono amo gli italiani, benvenuti alle ultime notizie di oggi Maria De Filippi ha deciso per la prima volta di cambiare la data delle registrazioni di Uomini e Donne, ecco quando ci saranno le prossime Uomini e Donne è uno dei programmi più seguiti dai telespettatori, fin da quando va in onda In ogni edizione sono tanti i protagonisti che arrivano sia nel trono over che in quello classico Alcuni sono ovviamente vecchie conoscenze che tornano nel parterre femminile e in quello maschile per mettersi di nuovo in gioco e trovare la persona giusta In questi anni il pubblico ha avuto modo di seguire ed appassionarsi a tante storie d'amore In ogni puntata accade sempre qualcosa di inaspettato e i colpi di scena sono all'ordine del giorno Di recente l'attenzione è concentrata sul trono di Brando, dato che Noon manca molto alla sua scelta Il giovane sulla sedia rossa dovrà manifestare la sua preferenza, anche se in questi giorni è apparso abbastanza confuso Il motivo è dovuto soprattutto alle continue uscite dallo studio delle sue corteggiatrici, tanto che lui stesso ha ribadito di essere stanco di questa situazione Ebbene, ogni settimana ci sono le registrazioni, ma a quanto pare, da questa Maria De Filippi ha deciso di cambiare i piani Uomini e Donna, cambia la data delle prossime registrazioni, cosa sta succedendo nel programma? Uomini e Donne, come ormai il pubblico sa, è un programma registrato, dato che sarebbe impossibile mandarlo in diretta Ogni puntata viene quindi preparata qualche giorno prima se non addirittura qualche settimana prima È infatti capitato che alcune siano state trasmesse pure dopo un mese Ebbene, in questi giorni ci saranno le nuove registrazioni ma sembrerebbe, come riporta in una storia Instagram Lorenzo Pugnaloni, che Maria De Filippi abbia deciso di cambiare data Come si legge, le prossime ci saranno giovedì e venerdì ma solitamente avvengono sempre ad inizio settimana, ovvero il lunedì e il martedì Sembrerebbe che la conduttrice abbia scelto di spostare per Sanremo, dato che martedì 6 febbraio è iniziata la 74esima edizione Ma a quanto pare ha spostato anche quella di Amici. Infatti, sembrerebbe, sempre secondo le indiscrezioni, che la puntata sarà registrata mercoledì e non il giovedì, per poi andare in onda domenica Inoltre, Maria e Mediaset hanno deciso di non mandare in onda, per questa settimana in cui è trasmesso il festival, c'è posta per te Infatti, si sarebbe scontrato sabato con la finalissima della competizione Il programma di Canale 5 tornerà, quindi, il 17 febbraio con un nuovo imperdibile appuntamento e tante storie piene di emozioni Grazie a tutti